Sono in cima al G2 amici miei, buona giornata al vostro Marco. Il Puma dell'Hortless Cevedale è riuscito ad inanellare il suo undicesimo 8000 a dispetto di quanti gli avevano consigliato comprensibilmente, massima prudenza dopo la durissima discesa del K2, constatagli l'amputazione delle dita dei piedi. Ma lui niente, avanti, a testa bassa, sveglia all'alba tutte le mattine, ore e ore di allenamenti su e giù per le montagne della Val Furva, concatenate fino allo stremo. Perché senza allenamento non è possibile arrivare a certi livelli, men che meno a quota 8000 a 35 metri, come quelli raggiunti ieri dal Selvadex senza ossigeno. Un attimo di gloria in vetta, il breve filmato panoramico sulle vette sottostanti, poi via verso la discesa fino ai 6000 metri del campo 1. 24 ore di marcia in tutto, consecutive, con arrivo alla meta alle 19 del giorno seguente. La fase più critica, come è noto, di tutte le imprese alpinistiche. Riuscita, questa volta senza intoppi, quindi avanti fino al campo base a quota 5500 metri. Altezze comunque vertiginose per qualsiasi comune mortale. Non per alpinisti del calibro della preparazione di Marco, che durante questa avventura ha portato con sé come sempre un po' della sua terra, in termini di cibo, presaola, salame e formaggio, ed ha rivisto tanti compagni di avventure, tra cui il canadese Don Bowie e il catalano Sergi Mingote. A presto in Valtellina quindi per il giusto tributo, anche se nei piani di Marco potrebbe esserci il tentativo immediato di ascesa di un altro 8000, il Gacherbrun 1. Staremo a vedere.